insomma bimbi allora le feste sono finite ne andate in pace oltre che quindi niente noi l'abbiamo passate bene ed è sempre a mangiare uno dice ma quanto cazzo mangiate ed è stato mangiato da casa della mamma di Paola a casa del fratello di Paolo a casa dei fratelli di tutti quindi se ci volete invitare anche voi bimbi noi si viene se ne fa complimenti qui intanto in casa vedete che sono apparsi nuovi elementi mentre ora Paola si appresta a disfare l'albero vedi che è bello abbiamo già tolto e è apparso magicamente questo divano questo divano enorme bello ed è comodo a besta perché appena ed è anche deleterio perché appena ti ci metti a sedere dormi e poi pagato è apparso questo vi che è un gentile dono di Mau e Liliana e poi c'è questo un puff regalatoci da Filippo e poi ieri sera è apparso quello che Paola aveva sempre anelato desiderato una testa di cervo che farebbe invidia a David Lynch ecco noi ci stavamo chiedendo perché una testa di cervo? perché no? vuoi una mano a disfare l'albero? ah 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 però che io non faccio mai un cazzo nulla no mamma non ti devi preoccupare perché guarda è tutto come un mosaico vabbè si leva intanto le ose le palle l'angelo lì tutta questa roba vì c'è dov'è? c'è sintonia tra di me porca putta che ora poi questa questa testa di cervo andrà messa tipo si sai che uno dice l'utilità dove? lì sopra? eh no lasciamo no lasciamolo qui lo mio biscottino ci sta bene fa simpatia no amore io le ho semplicemente tolte l'ho annunzata in terra sì per fare spazio vedi perché guarda cioè vedi tutta questa roba sono a trovare la bustina per la con i gancini la busta con i gancini sì io l'ho messa qui dentro la scelta un po' la qua ma io l'ho spostata ah no siamo in due no 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 senti un po' la poi Ines l'hai spostata te? eh no io l'ho messa qui dentro guardate 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 guarda guarda dove è? è lì? no amore ah non è questa no amore è una bustina trasparente con dentro che ne saranno rimasti due forze tre di gancini trasparenti di gancini verdi sì guarda dov'è come va? ah ioi eh allora vediamoci qui non c'è che cosa c'era l'angioletto? no l'angioletto non era qui fortunatamente eh l'angioletto è qui che ora poi bisogna uno dice hai fatto l'albero ora si è disfatto dove si mette tutta questa roba? sotto il letto sotto il letto dove era? mh ecco si carina bene eh la sciabatta nel cassetto sì la sciabatta nel cassetto no è un po' amore ahahah